...importante per la nostra città, per la nostra provincia, per la nostra regione. Sabato 21 settembre, dalle 3 alle 7 di sera, Giulio Elasco ci darà compagnia e ci trasmetterà un po' del suo grande sapere, della sua grande cultura, della sua grande passione. Il numero di allenatori che hanno aderito all'iniziativa è pazzesco perché siamo oltre ai 1000 allenatori iscritti, tante persone, anche non allenatori, si stanno facendo avanti, stanno partecipando, hanno acquistato il biglietto. Io penso che sarà una giornata veramente memorabile per la nostra città. Modena è un'eccellenza a livello mondiale, riconosciuta da tutti, non è la sola sul nostro territorio perché comunque al di là delle numerosissime serie B, noi abbiamo due importanti realtà di serie A femminile, una Sassuolo e una Montale. Poter vantare due società di serie A femminile comunque in serie A due è un grande vanto, è un grande pregio, sono società molto serie che stanno lavorando molto bene, affiancate da veramente una miriade di realtà che dalla serie B fino alla terza divisione incessantemente producono allenamenti, partite, stare insieme e tanta tanta cultura pallavolistica.